Vorrei partire da qui. Che cosa è successo tra la fine del primo tempo e tutto il secondo tempo? Perché tatticamente ho visto un buon Foggia, messo bene, ha creato i presupposti per sbloccarla. Poi nel secondo tempo che cosa vi è mancato? Perché questa squadra si è un po' sdoppiata? Devo dire che, come sapevamo, è venuta fuori una partita difficile. Loro molto reattivi, molto pronti nei duelli. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se qualcosa non siamo stati forse in mezzo al campo. Abbiamo concesso come palleggio, come situazioni, però abbiamo fatto un buon primo tempo sostanzialmente. Avendo avuto i presupposti nel finale del primo tempo di poter andare in vantaggio con diverse occasioni importanti, con per alta, con due calciotangoli, con due situazioni da fuori dove il portiere loro è stato molto bravo. Poi abbiamo avuto la necessità di fare due cambi forzati, tra primo e secondo tempo. Abbiamo dovuto togliere Carillo e Vezzoni. E questo devo dire che nel riadattarsi nel secondo tempo sicuramente forse non abbiamo trovato subito quelle geometrie giuste o quelle distanze giuste, però ciò non significa che chi è entrato non ha fatto il suo dovere assolutamente. Non è questo, però capiamo perfettamente che quando cambi due quinti su un pochetto arretrato a volte le dinamiche non sono sempre subito da raggiungere. E poi dopo abbiamo commesso due errori su due rinvie e portiere, abbiamo preso due gol su due rinvie e portiere dove non possiamo concedere questo, al dia della bravura degli altri, però credo ci sia molto demerito da parte nostra. Poi non voglio commentare alcune cose, però credo che il fallo sia talmente netto quello del secondo gol su Carattoni su un fallo vicino al fallo laterale, dove ha precluso poi l'inserimento in area dell'avversario e la palla dentro per il raddoppio. Alcune situazioni che sicuramente non è che hanno determinato la partita, però sicuramente l'hanno indirizzata in un certo modo. Non mi piace parlare degli albitri, non mi piace parlare perché poi dopo uno diventa anche magari forse trova delle scuse, assolutamente non è mio consuetudine, forse è una delle prime volte che ne parlo, però devo dire che è stata una conduzione non all'altezza forse. In una partita così, su questo campo veloce, con una perdita di tempo, che sono tempo al di là delle problematiche degli avversari, è eccessiva, però devo dire non è una scusante, quindi ho fatto questa premessa ma non è una scusante, assolutamente. Quindi gran colpa è la nostra se abbiamo perso oggi a Picerno, però devo dire che il nostro cammino prosegue. C'è un grosso rammarico perché avevamo grossa voglia e c'era grossa determinazione per poter fare il risultato qua, però ci sono anche gli avversari e quindi non siamo stati forse in grado di fare la nostra miglior prestazione, soprattutto nel senso tempo, però andiamo avanti e continuiamo a lavorare per la settimana prossima e cercare di migliorare quelli che sono i nostri errori. Ministro, buonasera, è stato un passo indietro rispetto alla prestazione di Vista contro il Benevento, io l'ho vista in tv, insomma, mi era sembrato un buon Foggia contro il Benevento, è mancato qualcosa dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, dal punto di vista caratteriale, forse è stato, mi passi il termine, sottovalutato questo avversario rispetto a quello di cinque giorni fa? No, no, assolutamente, anzi, la prima cosa che ho detto quando ci siamo rivisti il giorno dopo, dopo Benevento, dove abbiamo fatto una buona partita, questo è anche vero, la prima cosa che ho detto è stata di resettare perché andavamo su un campo difficile, su un avversario difficile, con delle condizioni difficili, particolari, quindi se pensiamo di fare la stessa partita che abbiamo fatto con il Benevento, con spazi diversi, con stadio diverso, con distanze diverse e con velocità di gioco diversa, avremmo commesso un grosso errore, ma questo i ragazzi erano coscienti, quindi abbiamo sottovalutato assolutamente no all'avversario, però sicuramente un giorno in meno di recupero forse potrebbe aver inciso in qualcosa, e poi quello che ho detto prima, magari qualche situazione forzata ci ha tolto un po' di geometrie, un po' di situazioni, però devo dire che ci abbiamo creduto fino alla fine, i ragazzi in campo hanno cercato di fare fino alla fine il massimo, però ecco non ci possiamo permettere di commettere tra virgolette alcuni errori, alcune disattenzioni con queste caratteristiche avversarie e su questo campo. Buonasera mister Carmine Albanese, si può dire che c'è un mal di trasferta per il Foggia, nel senso pochi punti raccolti, una sola vittoria, oppure semplicemente una casualità? Ma questo non lo so, potrebbe essere una casualità, potrebbe essere reale quello che dice lei, non lo so, abbiamo fatto una vittoria a Catania, abbiamo fatto buoni punti anche fuori casa, quindi non lo so se è questo, so che abbiamo fatto anche delle buone partite ma non l'abbiamo raccolto, questo sì, però devo dire che è normale, giocare in casa per noi è un fattore importante, con il nostro Stato e il nostro pubblico, così come lo è Mari per il Picerno giocare in casa, però noi dobbiamo essere più forti di questo, al di là, in questo momento i risultati stanno dicendo questo, che fuori casa non stiamo avendo un rollino di marcia come quello che abbiamo in casa, quindi dobbiamo fare ancora meglio di quello che stiamo facendo, perché non basta, perché poi il calcio è giocare dentro, giocare fuori e non dovrebbe cambiare, però ci sono alcune dinamiche che vanno migliorate, e questa squadra deve andare alla ricerca di questo.